Buon sabato amici e amici, interrompo il lavoro in corso, al lavoro in questo sabato, Whatsapp, Mail, contatti con le associazioni di agricoltori, di commercianti, di ristoratori, di pizzaioli, di concessionari auto, fra i tanti dimenticati dai decreti del governo ci sono anche le decine di migliaia di lavoratori dei concessionari auto, delle scuole guida, di tutto il mondo legato all'automobile, sono decine di migliaia di posti di lavoro, per cui nei decreti previsti dal governo non c'è né una lira né una riga e quindi è uno dei tanti settori dimenticati che cercheremo di aiutare portando proposte, miglioramenti, suggerimenti, soldi, perché senza soldi non si va lontano, c'è il contributo per i monopattini elettrici, c'è il contributo per le biciclette, però per molti andare a lavorare a distanza da casa con la bicicletta o col monopattino non è possibile, quindi le battaglie ideologiche contro le auto e i furgoni in un momento di crisi mi sembra che siano le ultime per utilità. Per quello che riguarda Roma, chiariamo, la manifestazione del 2 giugno sarà composta, pacifica, distanziata, con le mascherine a due o tre metri gli uni dagli altri, destinata ai cittadini di Roma e della regione Lazio, se non sarà possibile muoversi da altre regioni d'Italia, all'inizio di un percorso. Siccome è un'andata importante la festa della Repubblica come Lega abbiamo organizzato un lungo, lungo, lungo tricolore che a distanza potrà essere tenuto in mano, rappresentando questo splendido paese da nord a sud con le sue idee, le sue proposte, le sue sofferenze, quindi nessun assembramento, nessun caos, niente di simile, quindi anzi ne approfitteremo per fare una raccolta di cibo, di vestiti e di generi alimentari da distribuire alle parrocchie romane che stanno già da settimane aiutando coloro che sono in difficoltà. Quindi una prima di una serie di iniziative, altre verranno fatte su altre città e in altre zone senza assembramenti, senza confusioni. L'abbiamo visto in questi giorni, ci sono i ristoratori in piazza, i taxisti, i commercianti, gli ambulanti, gli artigiani, gli insegnanti, gli studenti, gli agricoltori, compostamente il 2 giugno sicuramente per i cittadini di Roma e del Lazio, visto che l'iniziativa sarà a Roma, per celebrare il nostro, il vostro grande paese in maniera assolutamente composta, distanziata, protetta ed educata. Se qualcuno al governo sogna gli italiani chiusi in casa ancora per settimane o per mesi, non ha capito niente. Un conto è essere rispettosi, attenti alla salute, alla vita del prossimo. Un conto è farsi cancellare per decreto e farsi dimenticare. Fra le proposte su cui stiamo lavorando, però aggiungetele, perché ovviamente non posso leggervi tutti in diretta, non posso rispondere a tutti in diretta, però prendiamo nota alla fine della diretta. C'è il discorso dei prestiti dalle banche, per il momento fallimentare, che che ne dicano? Vi ricorderete le promesse del Premier Conte dello scorso 6 aprile, ormai è passato più di un mese, quasi un mese e mezzo. Vi ricordate? 400 miliardi per le imprese subito. A un mese e mezzo di distanza questi 400 miliardi sono per il momento 11, perché tanti sono le pratiche che dalle banche sono arrivate al fondo di garanzia, sono solo 238 mila richieste a fronte dei milioni di commercianti, imprenditori, partite IVA, liberi professionisti, quindi a fronte di 5 milioni di potenziali richiedenti. Le richieste dalle banche inoltrate al fondo di garanzia sono solo 238 mila per un complessivo totale, attenzione, non ancora dato, richiesto e per il momento timbrato di 11 miliardi. Fra 11 miliardi e 400 promessi c'è una differenza. Che cos'è il problema? Dov'è il problema? È la burocrazia. Noi abbiamo proposto fin da subito come Lega e torniamo a proporre questo, il modello svizzero, una pagina di autocertificazione da proporre alle banche, che in Svizzera ti permette di avere fino a 420 mila euro cash con l'autocertificazione, senza i bilanci, il merito di credito, le difficoltà passate. Quindi questo porteremo in Parlamento. Semplicità, velocità, concretezza, efficienza, un foglio e via i soldi. La cassa integrazione, come avevamo detto a molti di voi, non è arrivato, i 600 euro non sono arrivati, quelle che rischiano di arrivare sono le denunce agli imprenditori e ai datori di lavoro, perché sono già 40 mila le denunce per infortunio sul lavoro di virus e Covid arrivate all'Inail. Non è possibile che l'unico incentivo a chi dà lavoro, a chi vuole ripartire, sia burocrazia e denuncia. Quindi ai decreti che stanno portando in Parlamento noi presenteremo a nome del popolo italiano due proposte soprattutto. Il taglio drastico sostanziale di burocrazia e scartoffie, quindi vuol dire modello Genova per tutte le opere pubbliche, modello Genova, poteri speciali ai sindaci, derogando dal codice degli appalti le autorizzazioni preventive, la via, la VAS, l'ANAC, la Corte dei Conti, l'abuso d'ufficio, il danno erariale, il ricorso al TAR, il tetto per gli affidamenti diretti, zero, via burocrazia, via, reset, azzerare, annullare. Può essere la grande occasione di questo disastro dell'epidemia azzerare la burocrazia che sta ammazzando l'Italia e le imprese italiane. Pensate che gli agricoltori passano un giorno su tre non a curare i loro campi o le loro bestie, ma a compilare moduli. Quindi prima proposta della Lega e se non passerà in Parlamento la porteremo in piazza il 2 giugno e nei giorni a seguire, ripeto, rispettosamente e a distanza, perché non ci teniamo né ad ammalarci né ad ammalare, ma non possiamo più stare zitti ulteriormente di fronte a quello che è un disastro economico a cui rischiamo di andare incontro per eccesso di burocrazia. Quindi via il codice degli appalti, modello Genova e poteri straordinari dei sindaci, stop agli 8 milioni di cartelle esattoriali con la rottamazione e il saldo estragio. Questa è la risposta a coloro che ci chiedono ma i soldi dove li trovi? Rottamare le cartelle esattoriali, chiedere a questi italiani il 15 o il 20% di quello che ti dovrebbero dare, che altrimenti non ti darebbero, lo Stato in cassa e liberi i cittadini, le famiglie, le imprese e gli artigiani da questi 8 milioni di cartelle esattoriali. Pensate che l'ultimo decreto ha 250 articoli e 500 pagine alla faccia della semplicità e del taglio della burocrazia. Dal punto di vista fiscale, flat tax, tassa piatta, taglio delle tasse, adesso o mai più, 15%, pagare meno per pagare tutti, sia i lavoratori dipendenti che gli artigiani, i commercianti, i piccoli imprenditori che fatturano da subito fino a 100 mila Euro. Costo previsto 13 miliardi di Euro, con 13 miliardi di Euro si aiutano 10 milioni di lavoratori e di famiglie italiane. Fino all'anno scorso ci dicevano che non ci sono 13 miliardi, questa volta ahimè in seguito al virus ci sono, il decreto in esame parla di 55 miliardi, se una parte di questi 55 miliardi invece che in mance, mancette o redditi di cittadinanza fosse investita in taglio di tasse e di burocrazia, ragazzi vedreste che l'Italia ripartirà e ripartirebbe e noi su questo insisteremo, sull'agricoltura soldi agli agricoltori e non sanatorie per i clandestini. Questa è un'enorme bufala, aiutateci a raccontarlo visto che le televisioni raccontano solo quello che vogliono loro e i giornali scrivono solo quello che vogliono loro, è una maxi sanatoria per decine o centinaia di migliaia di immigrati regolari che non hanno uno straccio di contratto di lavoro in tasca, perché questa demenziale, criminogena, folle, sanatoria indiscriminata è rivolta anche a coloro che non hanno documenti, non hanno contratto, ma ad esempio hanno fatto domanda di asilo politico e se la sono vista respingere perché era una bugia, perché era una domanda falsa, infondata. Quindi la fatica che ho e che abbiamo fatto per un anno per restituire onore, dignità, sicurezza e confini al nostro paese viene smontata con un articolo di decreto per fare un favore a chi? Agli amici degli amici, a qualche cooperativa che vuole tornare a guadagnare grazie all'immigrazione clandestina. Quindi diciamo e diremo no a quello che non è un aiuto alle aziende agricole e ai lavoratori, ma è un regalo alla mala vita ed è una sanatoria per migliaia di persone che in questo momento non stanno lavorando, ma stanno bivaccando e rompendo le scatole davanti alla stazione a Roma, a Milano, a Napoli, a Palermo, a Torino e quindi su questo non ci arrenderemo mai. Peraltro il solo annuncio della sanatoria ha fatto moltiplicare gli sbarchi che sono quattro volte tanto rispetto a quelli dell'anno scorso, oggi altri 60 arrivati a Lampedusa. Sullo sfondo abbiamo un ministro della giustizia che si è visto uscire sotto il naso 500 fra mafiosi, assassini e delinquenti e una volta accorto se ne cerca di correre ai ripari, ma i buoi ormai sono scappati dalla stalla. Mozione di sfiducia, perché non si può avere un ministro sotto la cui guida incompetente e quantomeno distratta, ci sono rivolte delle carceri, morti, feriti, poliziotti in ospedale, decine di criminali evasi e poi senza che nessuno muovesse un dito 500 fra mafiosi e delinquenti usciti di galera. L'Italia merita, gli avvocati meritano, i cittadini per bene meritano un ministro della giustizia che garantisca veramente le persone per bene. Quindi queste sono alcune delle proposte su cui stiamo lavorando giorno e notte e le porteremo nel luogo dove si discutono questi provvedimenti in Parlamento. Ma se, come è accaduto nelle settimane passate, il Parlamento con la maggioranza PD e 5 Stelle non ascolterà non la voce di Salvini e della Lega, ma la vostra voce, la voce degli artigiani, dei ristoratori, delle partite IVA, delle mamme e dei papà che non hanno ancora una certezza sulla scuola. Ma vi pare normale avere un ministro come il ministro Azzolina, lo dico a voi insegnanti, genitori e studenti, che ci lascia essere l'unico paese in Europa che non ha ancora la certezza sulla riapertura delle scuole. Tutti gli altri paesi o hanno già riaperto in sicurezza con pochi alunni a distanza o riapriranno a maggio. Le scuole in Italia insegnanti, studenti e genitori non sanno nulla e se ne riparla forse fino a settembre. Ragazzi, noi le proposte le facciamo, ripeto, laddove si votano questi decreti in Parlamento. Se continueranno a non ascoltarci, in sicurezza, con buonsenso, con educazione, con mascherine e distanze, la piazza torna a essere in tutta Italia, non solo a Roma, da nord a sud, paese per paese, comune per comune, campanile per campanile, la nostra forza e la nostra voce e la nostra voglia di libertà. Libertà di impresa, libertà di movimento, libertà educativa, con tutte le scuole paritarie, asili nido, scuole materne, scuole elementari dimenticate, centinaia di migliaia di bimbi dimenticati, centomila lavoratori dimenticati, libertà di culto, libertà di iniziativa, tornare a essere un paese con la testa, come gli italiani si sono dimostrati, però che torna a crescere, non possiamo guardare tutto il resto d'Europa che torna a produrre, a fare, perfino a giocare a pallone, è l'ultima delle cose che mi interessano, oggi il campionato tedesco è ripartito e vuol dire che gli sport ripartono e ripartono tutti i posti di lavoro, gli allenatori, i giardinieri, tutto, ripartono gli oratori, ecco una domanda, 8 mila oratori presenti in tutta Italia, una delle proposte della Lega sarà mettere pochi soldi per ciascuno di questi oratori per renderli sicuri, sani, puliti, controllati per dare una mano alle famiglie, perché luglio e agosto e settembre rischiano di essere un disastro, quindi riprendiamoci i nostri diritti, riprendiamo per mano il nostro paese che è un paese grande, ripeto nel disastro, nell'epidemia, nei morti che continuano, continuiamo a piangere, i feriti, i nonni, le mamme e i papà, però è un'occasione incredibile per ricostruire, per azzerare la burocrazia, per ripartire, azzerare tutti i debiti vecchi e ricostruire su presupposti nuovi, senza burocrazia, cavilli, codici, codicilli, lasciando gli imprenditori e i cittadini liberi di ricostruire questo splendido paese, ma non si può basare tutto sull'assistenza, sulla burocrazia e sullo statalismo, perché o si dà ossigeno o si danno soldi veri, non promessi sul Tg1, alle famiglie, alle imprese, oppure non si va da nessuna parte, quindi noi continuiamo testardamente a proporre in Parlamento al Governo quello che manca, quello che non funziona, quello che va cambiato, se non basteranno le aule del Parlamento, se il Governo continuerà a non ascoltarci, se il Ministro della Scuola continuerà ad ignorare gli insegnanti, gli studenti e le famiglie, se il Ministro della Giustizia continuerà a far uscire i delinquenti di galera senza muovere un dito, se il Ministro dell'Agricoltura invece di aiutare gli agricoltori veri, italiani o stranieri che siano, piange e si commuove per i destini dei poveri immigrati, irregolari e clandestini, no, prima vengono i diritti dei cittadini italiani e dei tanti cittadini immigrati regolarmente presenti in Italia e poi viene tutto il resto, rimettere al centro la libertà, i diritti, il benessere, la sicurezza, il futuro, la crescita, quindi noi ci siamo in Parlamento per portare la vostra voce, se non servirà fuori dal Parlamento in maniera composta, educata, distanziata, rispettosa, ma basta, non ci tengano più, non vi tengano più chiusi in casa, dicendoci pensiamo noi, di parole ne abbiamo sentite tante, di promesse ne abbiamo sentite tante, sono ancora tanti comuni che non hanno le mascherine, non hanno i camici, non hanno i guanti, noi cerchiamo di risolvere, di ascoltare, di intervenire, di aiutare, in Parlamento ce la metteremo tutta, se non sarà necessario, non sarà sufficiente il lavoro in Parlamento tocca a voi, donne e uomini liberi di questo Paese, non si può andare in banca a supplicare di ottenere un diritto per continuare a lavorare compilando 50 moduli, non esiste, rispetto, libertà, lavoro, salute, futuro, serenità e lo dico ai pochi che vengono qua nonostante tutto, nonostante il periodo di crisi a insultare, a bestemmiare, a offendere, ragazzi noi siamo persone per bene, buoni sì, però la pazienza di tanti italiani è giunta al limite, quindi o ci sono risposte veloci, concrete, efficienti, come in tutti gli altri Paesi europei, oppure non è più tempo di parole e di prese in giro, sul MES, vi dico solo questo, mi hanno attaccato per settimane tutte le televisioni, tutti i giornali, il Partito Democratico, Salvini, il MES è un regalo, come fai a dire di no, sei contro l'Italia, sei contro gli italiani? Ebbene non ve l'hanno raccontato ai telegiornali, ma andate a verificare su internet, adesso alla fine della diretta, la Grecia ha detto no al MES, la Francia ha detto no al MES, la Spagna ha detto no al MES, il Portogallo ha detto no al MES, ma come? Non erano soldi facili, regalati, senza condizioni, senza interessi? Allora o sono fessi tutti gli altri e non c'è la Lega o Salvini o i fascisti al governo in Grecia, in Spagna, in Francia o in Portogallo, oppure gli altri hanno governi liberi che non vogliono ammanettare il futuro dei loro cittadini nelle mani o di Berlino o di Pechino. I soldi ci sono, la Banca Centrale Europea è lì per quello e quindi non occorre andare a impegnare il nostro patrimonio, i nostri conti correnti, le nostre pensioni e il nostro futuro. La Grecia ha detto no al MES, la Francia ha detto no al MES, la Spagna ha detto no al MES, il Portogallo ha detto no al MES, torniamo rispettosamente, gradualmente, con intelligenza e cautela a uscire, ad aprire le porte, ad aprire le finestre, a riaprire i bar, a riaprire i ristoranti, a riaprire le palestre, a riaprire i parrucchieri, a riaprire i cuori, a riaprire le menti perché senza lavoro non c'è dignità, senza lavoro non si pagano nei mutui, negli affitti, nelle bollette. In questo decreto c'è poco e niente per il pagamento degli affitti, sia dei negozi che dei capannoni, che degli uffici, che delle case private, è uno dei temi su cui interverremo e quindi con la testa, ma con il cuore, riprendiamoci le nostre città, i nostri negozi, le nostre strade, i nostri figli, le nostre scuole, le nostre chiese, i nostri oratori, mano per mano. Noi ci siamo, ragazzi, e siamo al fianco e li stiamo anche aiutando legalmente di tutti quei cittadini che hanno manifestato e stanno manifestando rispettosamente, baristi, camerieri, parrucchieri, taxisti, ristoratori, albergatori, benzinai, operai a distanza e con mascherine sono in piazza rispettosamente per chiedere diritto alla vita, diritto al lavoro, diritto alla serenità delle loro famiglie e molti di questi si sono visti rispondere con 400 euro di multa. No, stiamo aiutando molti di questi commercianti, molti di questi italiani a fare ricorso contro queste multe, nessuno pensi di tenere l'Italia e in ostaggio ancora per settimane o per mesi. Quello che vedete alle spalle, quell'albero, quel cantiere in costruzione, quel palazzo alle mie spalle è pieno di donne e di uomini, non di numeri, donne e uomini liberi. Quindi grazie per il contributo che state portando, lo trasferiremo in proposte di legge per chi vorrà e potrà sicuramente da Roma e da Lazio l'appuntamento a distanza, educati, con la prova della febbre e le mascherine è per il 2 giugno in piazza Roma e vi daremo ulteriori informazioni nei prossimi giorni, portando magari anche qualcosa che avete in casa per aiutare chi ha più bisogno. Questo stiamo provando a fare, risolvere, superare problemi al di là delle bandiere di partito e delle differenze politiche, aiutare gli italiani a tornare a uscire, a vivere, a lavorare, perché con statalismo, burocrazia, assistenza e mettendo i nostri figli in mano o a Berlino o a Pechino non si va da nessuna parte. Quindi noi ci siamo e vi ringrazio e vi ringraziamo perché la nostra forza siete voi. Hanno provato a cancellarci, non ci riescono e non ci riusciranno perché perché siamo, perché siete un grande popolo. Viva l'Italia, viva la libertà.